Noi siamo qui in piazza per un motivo unico, dopo anni e anni di sfruttamento all'immigrato, cerchiamo oggi di far arrivare la nostra voce a chi è interessato, dell'aiuto dell'immigrato che oggi lavora con 15, 20, 30 euro, in un momento di crisi mondiale, di aumento di affitto e di costo delle spese. In questo momento i migrati che partono la mattina presto per il lavoro e tornano tardi, si trovano in condizione di guadagnare un minimo che non può gestire la loro vita. Oggi il costo della vita è molto alto, come mai ancora l'immigrato a Caserta ha la paga di 20, 30 euro, Noi vogliamo veramente arrivare a una pace sociale, vogliamo arrivare a una tranquillità in questo paese, ma con questo minimo, con non poter arrivare a saldare tutte le spese del mese, come possiamo recuperare questo punto? Allora oggi è il richiamo a tutti, lavoriamo insieme per aumentare lo stipendio dell'immigrato, perché questo è un punto che ci può far arrivare a una tranquillità in una provincia che è soggetto di camorra e noi siamo la parte debola che può cadere.